Capitolo 1 Venne ad aprire Susanna, la serva. Portava un vestito di lanetta bigia, stinto, rimboccato sui fianchi, lasciando vedere una sottana frusta di cotonina scura. Il grembiule di tela grossa era cosparso di macchie ontuose, teneva in mano uno strofinaccio puzzolente. Entrando, Isolina fece una smorfia di disgusto. «C'è chechina?» chiese. «C'è», rispose Susanna, stringendo le sue labbra sottili di Beghina. «E che fa? Stiamo ripulendo i mobili col petrolio. Volevo dire che si sentiva questo puzzo. E non ci pigliate una malattia, voi?» Il puzzo del petrolio non fa male. «Va a dire a chechina che sono qui, che ho da parlarle, di premura, subito!» e cavò dalla tasca un fazzoletto, tutto profumato di jockey club, per tapparsi il naso. Susanna se ne andò, stringendosi nelle spalle con un piccolo moto di disprezzo. Isolina si era buttata sul divano di creton giallina, a fiori rossi, molto duro, dalla spalliera diritta. Guardava distrattamente il salotto. Vi erano quattro poltroncine coperte di stoffa simile a quella del divano, coi quadrati all'uncinetto per ripararne la spalliera contro la pomata delle teste. Stavano attorno a attorno a una tavola rotonda, dal marmo bianco. Sul marmo, senza tappeto, un sottolume di gutta perca rossastra e un lume di antico modello, a olio, senza paralume. Poi, sei sedie di legno nero, dal colore smorto, che sembravano sempre impolverate. Una mensola coperta di marmo bigio, su cui stavano sei tazze di porcellana bianca, la caffettiera e la zuccheriera. Due scatole da confetti, vuote, vecchie, una di raso verde pallido, l'altra di paglia, a nappine. Un piattino di frutta artificiali, anche queste in marmo, dipinte vivacemente. Il fico, il pomo, la pesca, la pera e un grappoletto di ciliegie. Un tavolino da giuoco, coperto di panno verde, coi pezzi laterali abbassati. All'unica finestra, le tendine di velo ricamato, molto trasparenti, molto strette, con le bende di creton. Innanzi al divano, un piccolo tappeto. Era tutto. Vi faceva freddo, con quella lamentevole mattinata autunnale, in quel salotto glaciale. Isolina si strinse nel suo paltoncino nero, che le dava un'aria snella. Poi si slanciò, con una grande effusione, al collo di chechina che le stava davanti, sorridendo tranquillamente. Ti si rivede finalmente, core mio! Non potevo più stare senza te, Nina mia! Ti giuro che mi pareva mill'anni di rivederti! Quel frascati! Ti ci sei divertita, almeno? Sì, rispose chechina senza battere palpebra. Infatti sei più bella, più colorita. Peccato che tutto questo si perda, con quello scemo di Toto, che non capisce nulla. E perché porti la frangetta sulla fronte, che nessuno usa più? Ma è più comoda, ci si pettina in un momento. Susanna non sa fare altro. Che, che? Si compra un ferro per arricciare i capelli, si mette un carboncino acceso in uno scaldino e si fanno i riccioli, ogni mattina. Ecco, come me. Ma ci vuole anche la reticella di capelli per tenerli fermi, i riccioli. Susanna non sa fare tutto questo, rispose chechina ostinatamente. Ma perché non la mandi via, Susanna? È antipatica! Antipatica? Uh, queste serve. Queste serve tutte nemiche pagate. Io vedi, sarei felice di mandar via Teresa, che è ladra, insolente e... Non ti dico altro, se ne va per ore intere dalla casa. Ma come faccio? Sa tutti i fatti miei, è sveltissima, di una fedeltà che mi costa molto, ma di cui mi posso valere. Capirai, non posso mandarla via. Se quella racconta tutto a mio marito. Anche ieri ho dovuto darle quella vestaglia di flanella rossa, che era ancora portabile. Quella che piaceva tanto a Rodolfo. Oh, l'amore è un gran tormento. È un gran tormento, mormorò macchinalmente chechina. Che ne sai tu? Sei una scema, te l'ho sempre detto. Ti sei innamorata, forse, a Frascati. Isolina! Non ti offendere, tutto può accadere. Oh, io sono innamorata più che mai. Di Rodolfo. Ma che Rodolfo, che Rodolfo. Quello era uno stupido, un avvocato, figurati, come mio marito. Non vi era gusto, capisci? Meglio gigio, poi. Ma questo, questo qui, è ufficiale di cavalleria. Lo amo immensamente, come non ho mai amato nessuno. Oh, chechina, che passione. Io ne morirò. Mentre diceva queste parole, un fiotto di sangue le colorava il bel viso pruno. Gli occhi brillavano e le labbra tumide, rosse, pare già sentissero la golosità dei baci. Chechina la guardava con la sua aria seria e pacata di femmina senza temperamento. Senza avere un fremito nella bella persona, che il goffo vestito di lana nera non arrivava a render brutta. E gigio, chiese col suo buonsenso naturale. Oh, gigio è geloso, gelosissimo. Mi ammazza se sa che io amo Giorgio. E non hai paura? Ho paura, certo. Se non avessi paura, che gusto ci sarebbe ad amare Giorgio? Esporsi alla morte per colui che si ama, non è forse la maggior prova d'amore? Se sapessi che cruccio che mi dà questo amore. Già non ho mai quattrini e ce ne vogliono, capisci? Per darne a Teresa, per le carrozze, per i guanti, per i fiori. Mi presti venti lire? Come vuoi che te le presti? Non le ho? Dio mio, come faccio? Domani, sai, è giorno di appuntamento. E debbo andarci, assolutamente. Ho da comprarmi un velo di garza che costa cinque lire e mi serve a ogni costo. Ho da comprarmi una corazza di maglia che costa quindici lire e per andare da lui ci vuole la carrozza. Ti posso dare sei lire. Le ho risparmiate sulla spesa, disse sottovoce Checchina. Sei lire? E che faccio con sei lire? Parla piano, che non ti senta Susanna. Sei lire? Basta, dammele, farò alla meglio. Grazie, cara, sei buona, nina mia. Fra me e te, vedi, è un'amicizia straordinaria. Così potessi servirti in qualche cosa una volta? No, no, disse Checchina, presa da un lieve tremore. Tutto può accadere. Non ci facciamo forti, core mio. Addio, arrivederci. Me ne vado. Devo impostare questo bigliettino per Giorgio. Hai un francobollo da un soldo? Come vuoi che io lo abbia? Non scrivo mai. Scommetto che non hai neppure la carta da scrivere. Ne ha Toto, nel suo studio, con l'intestazione sua. Poveretta, poveretta, come ti compatisco. L'amore è una gran bella cosa, Checchina mia. E se ne andò. Gaia, leggera, con un'effusione di sorriso interiore sul volto, come chi porta un tesoro di dolcezza nell'anima. Checchina stette un minuto a pensare. Poi si adattò attorno alla vita, sul vestito nero, un grembiule di tela bianca e andò a strofinare l'armadio col petrolio, mentre Susanna strofinava il cassettone. Capitolo 2 Un giorno, di venerdì, il dottore Toto Primicerio, mentre stava per uscire, disse a sua moglie Checchina, che gli spazzolava le spalle del soprabito. Sai, ho invitato a pranzo il Marchese d'Aragona. Ella si fermò dallo spazzolare, immediatamente. Capisci, continuò il marito senza voltarsi. È stato così compito con noi affrascati, bisognava usargli una cortesia qui in Roma. Vede tutte le famiglie nobili, dà del tuo a tutte le principesse romane, mi sarà utile. Viene domenica, alle sette, l'ora della nostra cena. Essi pranzano a quell'ora. Per un giorno pranzeremo anche noi, alle sette. Quando egli si voltò, vide sua moglie un po' pallida, tutta seria. Questo pranzo ti secca, Checchia mia? Ora è fatta e non si può dispare. Un Marchese, qui da noi, lui che va a pranzo da tutte le principesse. E beh, qui si contenterà e non morirà mica di fame. Aggiusta tu con Susanna. Concluse Toto con la bella tranquillità romanesca, andandosene all'ospedale di Santo Spirito a rassettare braccia slogate e a medicare piaghe purulente. Andò via il dottore, ma nella casa stretta rimase la sua traccia, quell'invincibile fetore di acido fenico. Checchina non aggiustava nulla con Susanna. La serva era in cucina e schiumava il brodo, borbottando contro l'impietà del padrone che mangiava carne di venerdì, mentre lei, Susanna, si contentava di un pezzo di baccalà fritto. Checchina stava in camera, seduta accanto al largo, alto letto maritale, con le mani in grembo, tutta assorta nei suoi pensieri, non accorgendosi di essere ancora in pianelle e col fazzoletto di tela al collo. Un marchese che va dalle principesse e le abbraccia e da loro del tu a pranzo da loro. Ma perché dunque Toto lo aveva invitato? Come gli era venuto in mente di far questo? A Frascati, il marchese di Aragona villeggiava dai principi di Altavilla. Egli scarrozzava ogni giorno con la principessa. L'accompagnava alla messa, uscivano a cavallo insieme. Ella tutta chiusa nell'amazzone nera, col velo nero attorcigliato al cappello da uomo e una rosa tè all'occhiello. Egli in costume di velluto verde oliva, cravatta di raso nero, speroni di acciaio e frustino nero. Essa, Checchina, li aveva visti a passare due o tre volte come un'apparizione. Era un bel giovane, il marchese d'Aragona, alto, con una testa ricciuta e gli occhi malinconicamente espressivi. Un giorno, scendendo da cavallo, si era un po' storto un piede e Toto Primicerio era stato chiamato ad Altavilla per curare quest'inezia. Ma da allora, ogni volta che il marchese d'Aragona incontrava Checchina Primicerio, le faceva una scappellata profonda, quel gran saluto aristocratico che lusinga le donne borghesi. Tre volte l'aveva salutata così. Una domenica, sulla piazza dove suonava la banda municipale, fra la chiesa e il caffè, mentre le belle frascatane passeggiavano, la testa e le spalle, nascoste nello scialle di lana bianca. Un mercoledì, nel pomeriggio, Ella cuciva dietro i vetri del suo balcone, rimettendo i polsini a una camicia vecchia di suo marito, e il marchese di Aragona, passando nella via, salutò. Un lunedì, di mattina, Ella era con Susanna, in un vicolo recondito di frascati, a contrattare la compra di certe ceste di pomodoro da un contadino, per farne conserva per l'inverno. E il marchese di Aragona, passando, salutò. Questa volta Ella aveva arrossito, lo ricordava bene, ma non sapeva perché. Forse perché Susanna litigava forte col contadino sul prezzo. Ora questo marchese veniva a pranzo, ed Ella non sapeva che dargli da mangiare a questo nobile, avvezzo alle fantasie culinarie dei grandi cuochi. Avevano un servizio di piatti solo per sei persone, comprato a una vendita da stella, e mancava la salsiera e l'insalatiera. Sarebbe bastato. E l'insalata? Poiché ci vuole l'insalata in un pranzo, dove l'avrebbe messa? Ecco, gli si potevano dare gli gnocchi col sugo di carne. Gli gnocchi li avrebbe fatti lei, Checchina, e il sugo Susanna, che a questo era brava. Poi sarebbe venuta la carne col contorno di patate cotte nel sugo. Poi, un piatto di pesce fritto. Ma come fare se Susanna si lamentava sempre che la padella era alta in mezzo e l'olio cadeva ai lati e nel mezzo il pesce diventava nero abbrucciacchiandosi? Ci voleva una padella nuova o bisognava rinunziare al fritto. Le posate d'argento erano sei, ma una forchetta aveva due reppi storti. Presto presto e in cucina, Susanna avrebbe dovuto lavarle, come i piatti, se non bastavano. E l'arrosto, l'arrosto ci voleva. Non usa il pollo nelle case aristocratiche. Come lo avrebbe arrostito se i fornelli erano due in cucina e mancava il girarrosto. Questo pranzo sarebbe costato una quantità di quattrini. Come dirlo a Toto quante cose ci mancavano nella casa. Un marchese, con un'aria così seria da gran signore, che portava al dito un anello con un brillante, uno zaffiro e un rubino. Ella lo aveva visto benissimo, un marchese che sicuramente varie principesse dovevano amare. Bisognava dargli anche il piatto dolce. Che cosa sapeva fare ella di dolce da quando era giovinetta? La torta con la conserva di amarena? Quante uova metteva allora, con un chilo di fior di farina, mezzo chilo di zucchero finissimo e mezza libra di burro? E il forno per cuocerla, la torta? Veramente avrebbe potuto mandarla giù dalla portinaia che aveva il forno. Bisognava pregarla di questo favore. quella dispettosa Maddalena che litigava sempre con Susanna sul proposito della confessione, che Maddalena era proprio un'eretica. Poi il giorno seguente, se ce ne avanzava di torta, gliene avrebbe mandato un pezzetto per fargliela assaggiare e ringraziare della cortesia. E il caffè si dà in tavola, non è vero? Dopo che si è sparecchiato. Susanna la mattina lo faceva sul fuoco il caffè, con la ribollitura del giorno prima e un po' di caffè fresco. Mentre questi nobili, con la loro aria sempre svelta e vivace, è chiaro che prendono il caffè fatto con la macchinetta, sullo spirito e tutto caffè fresco, tre o quattro cucchiaini per tazza, senza ribollitura. Appunto, la settimana prima, Bianchelli aveva fatto una grande esposizione di macchinette, tutte lucide, fiammanti, che parevano di oro e di argento. Ce ne voleva una. E poi, in due giorni, Susanna doveva imparare a usarla. Ci volevano cinquanta lire per questo pranzo. Toto non gliele avrebbe mai date. Le dava tre lire il giorno per la spesa. Ma avevano il vino in casa e ogni tanto qualche regaluccio da un cliente, una forma di cacio, un salame, qualche cestino di frutta. Anche per lasciare quelle tre lire, Toto borbottava. E Susanna, in cucina, giurava nel nome di Sant'Orso, la patrona di tutte le vergini, che non ci si arrivava, non ci si arrivava e i beccai erano tanti cani e i fruttaroli tanti ladri di strada. Come avrebbe fatto per chiedere a Toto tutti questi quattrini per il pranzo del marchese? Giusto aveva prestato le sei lire, risparmiate a furia di stenti a quella sventata di isolina. Con sei lire qualche cosa si poteva fare e a quest'ultimo pensiero arrossì ricordandosi. Poi si alzò, andò in cucina e stette a guardare distratta Susanna, che tagliava minutamente una pastinaca per metterla nel brodo. Non diceva nulla, tutta assorbita. Due o tre volte la serva borbottò contro il carbonaio che non aveva proprio coscienza né timor di Dio a vendere il carbone ad acquato per farlo pesare di più. Ma la padrona non le dette retta. A un punto Checchina le disse come ridestandosi. Le sapresti fare, Susanna, i riccioli sulla fronte? Quali riccioli? chiese l'altra sbalordita. Come quelli di Isolina, mormorò la padrona a bassa voce. Capitolo tre Quando il marchese d'Aragona giunse, alle sette meno dieci minuti, come vuole la consuetudine, Checchina era ancora in camera sua a vestirsi. Aveva il viso rosso, due placche di fuoco sulle guance, tanto la vampa del fornello le aveva mandato il sangue alla testa. Era stanca morta, aveva dovuto far tutto lei, perché Susanna si ricusava ogni tanto con la credine, seccata di questo pranzo. Già alla mattina non si era potuto andare alla messa in Sant'Andrea delle Fratte e Susanna era implacabile quando non aveva potuto ascoltare la messa. A quell'ora, per il caldo, per la fatica, per l'idea che tutto sarebbe andato male, una grande confusione era nella testa di Checchina. Gli occhi le brillavano come per febbre. Quattro volte si era lavata le mani per paura che avessero il sito di pesce e macchinalmente le fiutava come in un sonnambulismo. Uscendo nel salotto, il marchese le diresse un complimento sulla sua buona cera e Toto Primicerio si ringalluzzì. Il marchese era in soprabito chiuso, cravatta di raso bianco con spillo di brillanti a ferro di cavallo. Si toglieva lentamente i guanti, donde le mani uscivano bianche e morbide come quelle di una donna. Mentre ella restava in piedi, impacciata dal suo vestito nuovo di lana foglia morta con un'arricciatura di merletto al collo che le solletticava la nuca, pensava disperatamente che forse era meglio dargli del brodo invece degli gnocchi. Toto Primicerio continuava a dire e a insistere che quello era un pranzetto alla buona in una casa modesta che non aveva a che fare con i banchetti principeschi. Il marchese sorrideva con una grande finezza e non rispondeva. Quando Susanna con una voce brusca annunziò che gli gnocchi erano in tavola egli si inchinò e offrì il braccio alla signora. Ella sentì il sottile profumo che egli portava forse nei capelli forse nel fazzoletto un profumo molle e dolce. Le pareva di averlo sulle labbra come un sapore di zuccherino. In verità sul principio del pranzo ella fu molto in pena perché tutto andava male. Susanna dava al marchese certe occhiate di diffidenza e serviva con malagrazia. I piatti e le forchette tardavano un secolo dalla cucina e chechina taceva senza osar di chiamare fissando la tovaglia tutta imbarazzata. Toto Primicerio aveva una grossa allegria di medico in festa arrischiava lo scherzetto parlava familiarmente al marchese come se fossero compagnoni. Gli narrava di una quantità di gambe segate di budella ricucite e riadattate nel ventre di carotidi recise e di flemmoni che gonfiavano un braccio come un pallone. Il lume filava e quando si abbassava la luce era troppo fioca. A quel punto il marito disse caro marchese mio questi gnocchi e la torta che assaggerete in fine di pranzo sono opera di questa checca mia che ha le mani benedette. Il marchese le fece un complimento squisito. In verità egli fu finissimo. Parve non si accorgesse neppure di tanti piccoli incidenti volgari non guardò mai Susanna come se non esistesse. Prese due volte della frittura e parlo sempre con la massima scioltezza. Parlava a mezza voce con una R molto lieve quasi aspirata e una S infantile molto dolce. Quella voce aveva delle intonazioni molle come carezzevoli e nelle più semplici parole pareva che undeggiassero soffi caldi aliti avvincenti di tenerezza. Parlando fissava negli occhi il suo interlocutore col suo sguardo serio pensoso mentre un lieve sorriso compariva sotto l'arco biondo dei mustacchi e la mano morbida scherzava col coltello. Chechina sollevata dal suo incubo si rincorava vedendo la disinvoltura da gran signore con cui il marchese di Aragona non si accorgeva di nulla. Il viso rosso diventava rosio e l'arricciatura che le solleticava la nuca le cagionava un fastidio dilettoso invece che una pena. Ogni tanto sotto lo sguardo del marchese le palpebre le battevano come se la luce fosse troppo viva nella stanza. Ma anche ella sorrideva silenziosamente annuendo col capo a quello che diceva. A proposito della torta che era forse un po' troppo cotta abbrustolita nell'orliccio e gli disse qualcosa di molto delicato sulla dolcezza della donna. Chechina non intese bene il senso delle parole ma la voce la carezzò come una musica. Il marchese non prese il caffè che forse era molto cattivo ed ella gliene fu grata in cuor suo. I denari non le erano bastati per comprare la macchinetta. Invece Toto Primicerio volle che si sturasse una bottiglia di vieux cognac che gli aveva regalato un suo cliente di Francia. Il marchese allora levò il bicchierino e fece un brindisi alla signora Primicerio la quale per corrispondere beve un bicchierino di cognac liquore che non aveva mai bevuto di un fiato solo. Nel salotto tutti e tre tacquero un momento. Vi faceva freddo in quella stanzetta povera di mobile senza tappeto con quelle tendine grame. Come se si potesse riscaldarla coi lumi che Kina fece portare l'altro lume che esisteva in casa ma non aveva paralume e accecava a guardarlo. Ella sedeva sul divano ritta sul busto sentendo per la prima volta la miseria di quella stanza e soffrendone acutamente. Appena appena udiva la voce armoniosa del marchese di Aragona che le diceva male della villeggiatura di Scozia dove gli altavilla suoi cugini avevano un castello. Vi era freddo laggiù. Ella rabbrividiva qui. Le lacrime le salivano agli occhi. Toto primicerio si lasciava vincere dall'irresistibile sonno degli uomini adiposi che hanno molto mangiato e molto bevuto. Ella rivolgeva a suo marito certe timide occhiate quasi supplicando di non addormentarsi. Toto come tutti gli uomini grassi russava. Toto non capiva e disteso sulla poltroncina ogni tanto chiudeva gli occhi e abbassava la testa sul petto. Alla fine uno sguardo di checchina lo svegliò come una scossa elettrica. Egli si levò arrivò sino alla finestra guardò nella strada per avere un'aria disinvolta e poi uscì dalla stanza d'un tratto solo senza voltarsi. Egli aveva bisogno di dormire un'oretta dopo il pranzo. Questo bel marchese di Aragona finse di non vedere l'uscita del marito. Disteso nella poltroncina con una gamba accavallata sull'altra egli mostrava il piede aristocratico calzato dalla calza di seta rossa e dalla scarpa di copale. Una mano arricciava affilava i mustacchi biondi e l'altra si poggiava sul bracciuolo del divano dove checchina era seduta. Checchina ora respirava meglio che suo marito dormiva largo disteso sul letto coniugale. Ella osava alzare sul marchese i suoi grandi occhi romani immobili forse nell'espressione ma profondi. Di nuovo sentiva quel molle profumo di violetta che le dava un intenerimento ai nervi. Il marchese di Aragona aveva ancora abbassato il tono della voce. Ora le diceva della propria casa un quartierino da scapolo dove egli passava delle lunghe ore solitarie. Perché non vi ammogliate allora? disse ella ingenuamente. Poi si pentì della soverchia familiarità egli non rispose alla domanda vi fu silenzio. La casa è solitaria mormorò egli di nuovo guardando che china in quella malinconica via dei santi apostoli la conoscete sì? Mi fa piacere non il palazzo di balduccio de scalchi il principe o de scalchi un mio amico no quello accanto dopo un arco sono al primo piano ventiquattro scalini io detesto le scale lunghe mi fanno male al cuore nella mia famiglia è ereditaria la malattia di cuore ne moriamo tutti molto presto che importa la vita deve essere breve e buona la mia è troppo lunga e non è bella sicuramente non vi è mai nessuno in casa mia vi sono due porte nell'appartamento il mio cameriere prepara dal mattino tutto quello che mi può servire nella giornata poi resto solo il quartierino ha le triplici tende di seta gialla di merletto bianco e di broccato che lo difendono contro la soverchia luce io amo molto la penombra in cui si può sonnecchiare vi sono dei tappeti dappertutto e la casa tutta quanta è un po' fuderata un po' imbottita contro il freddo il caminetto del salotto ha sempre una fiammata viva io sono molto freddoloso nel calduccio mi sento felice sono sempre solo in quella casa per divertirmi abbrucio una pastiglia orientale che profuma la stanza fumo una sigaretta e aspetto che venga chi? un sogno un fantasma una bella donna semplice e buona che mi volesse bene che io adorerei volete venirci voi? soggiunse subito baciandola improvvisamente sul collo no no disse lei difendendosi le labbra col braccio vieni mercoledì dalle 4 alle 6 vieni Fanny no mercoledì rispose Checchina vinta da quel nome venerdì allora alla stessa ora e fatto lei un profondo inchino se ne andò Susanna gli fece lume con una lampadina a olio per le scale capitolo 4 al mattino seguente il marchese d'Aragona mandò alla signora primicerio un mazzo di rose bianche e di vaniglia Toto era uscito Checchina si faceva pettinare da Susanna aveva gli occhi socchiusi e le labbra sbiancate come chi ha mal dormito si fissava nello specchio senza vedersi come trassognata quando vide il mazzo di fiori si confuse lo prese per il gambo lo strinse al petto sbalordita il cameriere aspetta disse Susanna con la voce dura e secca aspetta gli dirai gli dirai Susanna che ringrazio tanto il signor marchese e che lo ringrazia anche il mio marito va senti non sarebbe meglio scrivere un biglietto di ringraziamento so molto io borbotto l'altra con una spallata senti io non posso passare dinanzi al cameriere in sottana di flanella fammi il favore prendi un foglio di carta una busta il calamaio la penna e porta tutto qui mentre Susanna si attardava di là Checchina con la faccia sul mazzo delle rose pensava a quello che avrebbe scritto al marchese era presa dalla vergogna di non saper scrivere bene di far qualche grosso errore di ortografia era da tanto tempo che non scriveva più una lettera e il marchese sicuramente doveva ricevere dimirabili bigliettini da quelle fantastiche principesse e sue parenti esse dovevano scrivere su quella fine carta che pare raso che Isolina ci si rovinava a comprarne una scatola una carta che odora di buono come tutte le cose di questa gente nobile e ricca e la Checchina non aveva carta salvo quei larghi fogli da ricetta di suo marito che portavano per intestatura Antonio Primicerio medico chirurgo consultazioni dall'una alle tre via del bufalo larghi fogli che putinavano di acido fenico come tutte le cose che Toto toccava come la stessa Checchina che ogni tanto si fiutava le maniche del vestito per trovare la traccia di quel cattivo odore non vi è la busta disse Susanna rientrando e come faccio ora? pieghi in quattro un foglio grande e lo chiuda con la mollica del pane no preferisco far senza dia al cameriere che ringrazi per me il marchese ma senti bisognerà dargli qualche cosa a questo cameriere la serva fece una smorfia come se non volesse intervenire ce l'hai una lira Susanna? pregò la padrona con la voce e con lo sguardo come vuole che ce l'abbia alla grazia dei quattrini che mi consegna la mattina tutto è caro il beccaio è fuor del timor di dio e alla verdura non ci si può avvicinare per non far peccato di ira e di superbia mi sono rimasti pochi soldi in tasca contali Susanna fossero mai una lira le tremava la voce e aveva le lacrime negli occhi appena appena otto soldi e ho da comprare il sale per la minestra e il caccio per la trippa da questi otto soldi al cameriere e che ringrazi il suo padrone e che lo preghi di scusarmi se non ho scritto va Susanna al sale ci penseremo già lo sa lei che il tabaccaio credito non ne fa che china chinò la testa mentre di là Susanna parlava col cameriere la padrona arrossiva arrossiva di scorno per quegli otto soldi così meschini così miserabili che quel cameriere avvezzo alle mance principesche avrebbe certo disprezzato quando udi chiudere la porta respirò di sollievo li ha presi sfido io e in silenzio ricominciò a passarle il pettine nella foltezza dei capelli bruni che china fra le palpebre semichiuse seguitava a guardare i fiori a seguire il sottile traforo della lieve carta che gli circondava dove lo vuol mettere quel mazzo qui stia attenta che la puzza dei fiori fa male al capo gliel'avverto perché una signora dove ero a servizio ne prese un mal di testa uno sturbo da morirne allora li metteremo in salotto e dove li farà bagnare non ci sono vasi in un bicchiere sono tutti troppo piccoli è vero mormorò la padrona umiliata sono troppo piccoli mi senta riprese Susanna che le do un santo consiglio il meglio che possa fare è di mandare questi fiori alla madonna immacolata in santa andrea delle fratte glieli dia col cuore come dice il predicatore e ne avrà doppio merito innanzi a quella vergine immacolata già non si sa mai fiori dolci gioielli sono opera del diavolo e inducono in tentazione scansi il pericolo mandi i fiori alla madonna almeno aspettiamo Toto che li veda ne avrà piacere disse che Kina a voce bassa vinta da un timore interiore sì piacere se lui dice che i fiori costano troppi denari e non significano nulla e non servono a nulla salvo i fiori di tiglio per far sudare e i fiori di camomilla per il mal di pancia allora portali tu alla madonna questi fiori seguì con l'occhio quelle rose bianche dal seno rosato quella mite vaniglia poi cercò di scuotersi da quel torpore si infilò la giacchetta del suo brutto vestito di casa cercò di rialzarne il merletto bianco del collo che era tutto gualcito e andò a sedersi nella stanza da pranzo per stanchezza per disgusto non ebbe la voglia neppure di compire il suo solito giro mattinale nella casa per vedere se vi fosse polvere sui mobili se gli angoli delle stanze fossero bene spazzati se il focolare di mattoni lucidi a scacchetti bianchi e neri fosse stato lavato si sarebbe buttata sul letto vestita com'era per dormire se la coperta di cotonina rossa e gialla imbottita di bambagia non le avesse dato un senso di freddo si mise a marcare di rosso con le iniziali AP e col numero progressivo certi strofinacci nuovi a cui aveva già fatto l'orlo lavorò per mezz'ora come in sogno cercando di vincere la sonnolenza applicandosi a contare i fili mentre le palpebre le battevano lo strofinaccio era caduto per terra lasciando sul vestito nero la gugliata rossa come un filo di sangue a che china le mani giacevano in grembo inerti provava certi lenti brividi di freddo per la persona con una pesantezza vincente della testa sui mattoni grezzi del tinello i piedi calzati da un vecchio paio di stivali di prunella si irrigidivano trasse inanzi a sé una sedia e li appoggiò al cannello aveva una voglia grande di sdraiarsi in una poltrona lunga e soffice dalla stoffa liscia liscia di seta che scricchiola dolcemente affondando i piedi in un tappeto caldo e molle di queste carezzanti morbidezze egli le aveva parlato e in quel dormiveglia un po' penoso stringendosi tutta nella vestizuola di lana ficcando le mani nella larghezza delle maniche per aver caldo chinando il capo sul petto tutta raccolta ella pensava che dovesse essere di bello di confortante quel nido caldo ombroso profumato dove si affondava nella piuma e non si udivano rumori le ronzava nella testa la voce di lui così soave così soave mentre le parlava nel dormiveglia pensando sognando le pareva udire di nuovo quella voce profonda toccante carezzevole che alle più dolci parole dava un'intonazione musicale le pareva di respirare nell'aria intorno a sé quell'odore fresco quasi giovanile di violetta una scossa nervosa la fece trassalire le fece aprire gli occhi tremava dal freddo ora in quella oscura stanza da pranzo con quella umidità di novembre le mani bruciavano le braccia le dolevano in una gamba sentiva un formicolio come la puntura di mille spilli andò in camera sua zoppicando battendo i denti si avvolse in uno scialle di lana a quadrettini grigi e azzurri che era già stato lavato quattro volte oh avessi avuto una pelliccia almeno come tante altre donne fortunate che incontrava per il corso tutte ridenti chiuse ermeticamente nella rotonda nera che lascia vedere solo l'orlo del vestito ma con Toto non era il caso neppure di parlarne costavano le meno care 45 lire somma enorme uscire con la pelliccia sarebbe stato tanto bello tanto signorile anziché con quel vecchio mantello di panno nero il cui passamano aveva perduto tutte le perline ed era diventato rosso allora una grande malinconia la invase la privazione delle cose ricche ed eleganti che aiutano e fanno risplendere la bellezza femminile aprì l'armadio dei vestiti e si diede ad osservarli minutamente con una cera afflitta quello di estate di lanetta a grandi scacchi gialli e verdi era troppo chiaro dava troppo all'occhio la ingrossava era troppo freddo non ci si poteva pensare quello di seta nera lo usava da quattro anni era liso su tutte le cuciture specie nel busto dove le stecche di balena consumano maledettamente la stoffa era troppo miserabile sarebbe parsa una stracciona non lo poteva mettere non le restava che il suo vestito di lana a foglia morta quello che portava la sera prima al pranzo quello stesso sempre quello quell'unico non aveva altro doveva da capo infilarsi quello e fare la medesima figura della sera prima cioè quella di una povera meschina che il marito tiene a stecchetto oh quel toto così taccagno così attento al centesimo che discuteva ore intere sopra la spesa di una mezza lira quel toto così sospettoso di essere rubato che riuniva la moglie e la serva nello stesso sospetto e le vigilava e le guardava con un certo sorriso maligno il sorriso dell'uomo furbo a cui nessuno la fa che arrivava loro alle spalle improvviso quando parlavano sottovoce in cucina e loro che restavano interdette checchina pallida pallida e Susanna rabbiosa perché non glielo avrebbe fatto un vestito di casimiro nero di quella bella lana fina che fa le pieghe così larghe e si tende sul busto come un guanto e diminuisce le persone troppo grasse ma che ce ne volevano almeno 12 metri a 5 lire il metro erano 60 lire e una ventina di lire alla sarta fra spese e manifattura il meno che si poteva il casimiro si guarnisce da sé dunque 80 lire per una volta sola ma un vestito di quelli si porta sempre è sempre elegante e dura un secolo da due anni ogni tre mesi litigavano con Toto per questo vestito scusa perché te lo avrei da fare quelli che hai non ti bastano sono tanti hai da farla bellina per me che camia oramai ti conosco ti so molto e questo civettio non serve più allora io ho ad andare come una straccionan è vero e la gente attorno dirà che sei un medico senza clienti e senza quattrini ma non andavano più oltre le ribellioni della natura flemmatica e timida di Chechina ella si stringeva nelle spalle si rassegnava ricadeva nella sua apatia riaccomodava i suoi vecchi vestiti li faceva tingere li faceva lavare ma ora ora sorgeva ardente vivissimo il desiderio di questo vestito nero le sarebbe andato così bene tutto semplice coi bottoni di pastiglia nera col fazzoletto di velo bianco avvolto al collo come un collarino monacale con una di quelle spille d'argento che sono formate dalle lettere di un nome Fanny che su scipi le vende a buon mercato e sulla pelliccia il cappello come era brutto il cappello che aveva era di paglia nera che aveva perduto il lucido foderato di velluto nero con una falda dritta e un'altra abbassata una piuma nera piccola povera che aveva perduta l'arricciatura e pendeva sfilacciata come se avisse preso una grande bagnatura visto sulla testa di sotto in su il cappello non stava male ma a guardarlo di dietro era una pietà ecco ci sarebbe voluta una cappottina di velluto nero semplice con un piccolo diadema e un gruppetto sollevato di pennine nere niente che un fiocchetto e i nastri anche di velluto che si annodano sotto il mento ne avevano tutte le modiste di queste cappottine e costavano da 20 a 25 lire col vestito nero e con la pelliccia sarebbe stata una cosa meravigliosa ma niente niente ella non aveva niente di tutto questo non lo avrebbe mai avuto tutto era inutile tutto tutto era impossibile ebbe una mezz'ora di annullamento nella desolazione mentre in cucina Susanna grattava la tavola con un grosso coltello per raschiarne l'unto quel rumore monotono continuo finì con lo scuoterla col darle animo qualche cosa bisognava fare si mise a frugare nel cassetto dell'armadio fra i vecchi fiori artificiali dai petali sgualciti fra le piumette rose dai tarli fra i rotoletti di straccetti vi era una cappottina di raso nero di due anni prima la forma era troppo alta sulle pieghe il raso mostrava la trama di cotone non vi erano né fiori né piume ma scucendola questa cappottina e rifacendola nascondendo le pieghe consunte mettendovi la piuma del cappello rotondo che si poteva arricciare con le forbici ne poteva venire fuori un cappellino passabile ma senza le sciarpe subito presa da una voglia di far presto si mise all'opera scucendo ricucendo piegando ripiegando quel poco raso non riuscendo a celarne le strisce consumate impazientendosi ne venne fuori un certo coso in forme tutto sbuffi e confiamenti ma la penna avrebbe accomodato tutto questo la tolse dal cappello rotondo e la puntò con gli spilli su quello che rifaceva per provare innanzi allo specchio si guardava con quel cappellino troppo piccolo sul capo con la penna che andava di traverso e vedeva di aver fatto un pasticcio che fai qui? chiese il marito arrivandole alle spalle ella si rivolse precipitosamente spaventata come se avesse commesso un delitto imbarazzata con quel berretto sul capo che fai qui? ripete lui niente provavo ad accomodarmi un cappello poiché non ne ho come tu sai alle solite eh checca mia sarebbe meglio pensassi alla minestra di cicoria che Susanna ha dimenticato di metterci una cotenna grassa di maiale e dire che lo sai quanto mi piace la cotenna come ti pare questo cappello? chiese lei e che vuoi che io ne capisca dei vostri capricci femminili so molto io dei vostri cappelli ma pure dimmelo Toto supplicò lei ti sta male ti sta male ecco tutto già che vuoi la verità era meglio l'altro ella si tolse lestamente di capo quel berretto strano e ne staccò la piuma ora non è tempo di far codesto checca esclamò il dottore con la sua grossa voce ora si mangia a tavola mentre Toto tagliava il lesso rassegnato che Kina gli disse del mazzo di fiori come per caso guardando nel piatto già tutti i compagni questi nobili rispose il medico tutti a un modo gli date un pranzo che vi costa su per giù un 35 lire tanto che voi ci mangereste dieci giorni cavate i quattrini dalle vostre vene che vi sfacchinate dalla mattina alla sera toccando polsi di gente malata guardando lingue sporche e altre cose più sporche ancora infine cercate di far buona figura dandogli da mangiare lui viene e mangia il pranzo come se nulla fosse chi si è visto s'è visto e la mattina dopo un mazzo di fiori alla signora così usa forse disse ella guardando nel bicchiere dove vi erano poche gocce di un vinello bianco dei castelli usa usa non mi parlare dei loro usi di questi aristocratici dammi quella trippa è fatta con l'ardone vero checca usano una quantità di scempiaggini questi signori i fiori costano tanto denaro e non servono a niente ci voleva il cacio pecorino su questa trippa Susanna perché non ce lo avete messo il cacio pecorino non avevo più quattrini per comprarlo grido quella dalla cucina con un grande rumore di forchette e di coltelli tutto avete speso tutto al solito sempre la stessa antifona aveste mai un soldo da restituire c'è stata la mancia al cameriere del marchese replicò la serva alla cremente anche la mancia che china ingoiò in fretta un bicchiere d'acqua tutto intero anche la mancia ecco a che servono i fiori a farmi mangiare la trippa senza cacio ma se crede così uscire d'obbligo il signor marchese debbono essere affari debbono essere clienti quelle 35 lire di pranzo che egli se pappate vedremo se è galantuomo il signor marchese frutta da ieri non ce ne sono restate no rispose la moglie Susanna porta allora le caldarroste gridò il medico dopo pranzo egli si andò a sedere nel suo scrittoio aspettando le consultazioni che avrebbero dovuto esserci dall'una alle tre ma che venivano di rado una ogni tre o quattro giorni per lo più egli apriva un libro di medicina e vi si addormentava sopra sul seggiolone di pelle nera coi piedi sotto la scrivania che china era restata a tavola pensando rompendo le cortecce vuote delle caldarroste in minuti pezzetti mentre Susanna sparecchiava nella stanza ondeggiava l'odore della cicoria bollita e quello della trippa in umido per la cena basterà l'arrosto di abbacchio e la insalata di patate domandò Susanna tirando a sé la tovaglia e scotendola per farne cadere le molliche di pane basterà le rispose che china restando ancora al suo posto incapace di levarsi su ripresa da quelle targo della mattina ho parlato col padre fileno stamane a sant'andrea delle fratte riprese la serva familiarizzandosi in quella benevolenza della digestione quel santo sacerdote si lagna che lei non ci vada più spesso potevi dirgli che toto ci si inquieta e mi grida gliel'ho detto che il padrone non ci crede perché sa come è fatto dentro l'uomo e perché vede morire di malamorte tanti cristiani che sant'andrea vellino protettore degli agonizzanti ci scampi e liberi ma già questi uomini sono tutti a un modo stanno bene e si ridono della religione e peccano come tante anime dannate poi quando sono ammalati chiamano dio e la madonna basta ho detto al padre fileno che sarei andata oggi a confessarmi me le dà due ore di permesso quando il signore va a santo spirito non potresti andare un altro giorno venerdì fece la padrona come sbadatamente no no gli ho detto che sarei andata oggi perché vorrebbe mandarmici venerdì va pure oggi fa come vuoi e si strinse nelle spalle come una persona che ha fatto tutto quello che poteva dopo ricucita la piuma sul cappello rotondo ripose tutti quei cenci quei pezzetti di nastro quello scuffiotto di raso nero con un sospiro giammai avrebbe osato chiedere dei quattrini a Toto si rassegnava soffrendo in silenzio pur di non udire quella grossa voce che calcolava il valore di un soldo e gliene rinfacciava la spesa pur di non udire le domande sospettose di Susanna ora rifaceva le iniziali rosse agli strofinacci dove le aveva sbagliate al mattino non poteva pensare a quello che le mancava per essere vestita bene non voleva pensarci per non affliggersi più a che contristarsene solo un momento in due ore si alzò per vedere quello che faceva suo marito dormiva russava sopra un grosso libro con la bocca socchiusa e storta la testa china sopra una spalla il panciotto sbottonato che lasciava vedere la camicia bianca e la camicia di flanella in cucina Susanna faceva dei piccoli buchi nella polpa rosea dell'agnello da arrostire per ficarvi del rosmarino e del pepe poi alle tre e mezzo Toto si svegliò di pessimo umore chiese il soprabito pesante il fazzoletto da collo per quando usciva da quel maledetto ospedale bestemmiò la professione di medico chi l'aveva presa e chi la prendeva e se ne andò sbattendo la porta che china taceva come sempre quando lo udiva gredare poi Susanna si mise il vestito di lanetta marrone color monacale il velo nero sul capo lo scialletto nero sulle spalle e venne a salutare la padrona raccomandami addio le disse Costei sospirando indegnamente rispose l'altra tutta compunta finalmente era sola per due ore di poter andare venire pensare libera almeno in questo ora più che mai le bruciava dentro la ferita del non aver vestiti quelle principesse che ne cambiavano tre al giorno le cui cameriere vestivano con maggiore eleganza di lei che china quelle principesse che certo visitavano nelle ore dei convegni l'appartamento del marchese d'Aragona e la doveva andarci così come una stracciona con quella roba vecchia di cui si vergognava una forte scampanellata la scosse restò interdetta non osando aprire guardandosi intorno ritta in mezzo alla tela gialla degli strofinacci chi poteva essere suonarono di nuovo più forte bisognava aprire finì col chiedere a voce tremante di dentro chi è? amici apri checca sono io isolina ah sei tu disse checca come delusa aprendo sola eh? quanto mi fa piacere un bacione anzi due su questa bella faccia pallida che hai core mio? niente non ho niente hai avuto paura che fossero i ladri? si sentono tanti brutti racconti che io faccio sempre domandare chi è da Teresa già Teresa ha sempre da chiacchierare fuori la porta ora con un bimbo ora con una donna ora con un vecchio è una disperazione come sei bella oggi isolina non ti pare? e si levò in piedi per farsi vedere bene tutto per Giorgio tutto per quel caro amore mio riprese sedendosi sei ancora da lui oggi? chiese l'altra dopo un'esitazione ancora? sempre che posso appena ho mezz'ora di libertà scappo da lui oggi vedi sapevo che mio marito usciva alle 5 gli ho scritto a Giorgio che sarei andata dalle 5 alle 6 sai sono le ore migliori per gli appuntamenti invece quella bestia di mio marito va via alle 3 e mezzo e io perdo un'ora e mezzo Giorgio non andrà a casa sua che è alle 5 meno 5 minuti ho pensato ora vado da Checca e sto un po' con lei mi servirà anche di scusa se mio marito dovesse domandarmi dove sono stata se tu dovessi vederlo gli dirai che sono stata qui fino alle 6 tra amiche sai glielo dirò e sorrise lievemente questo cappello è nuovo non è vero? sì nuovo figurati non l'ho pagato ancora ma la Coppi mi conosce mi aspetterà avevo dei quattrini ma ho dovuto comprare le scarpette queste qui dorate e lucide queste qui core mio niente meno costano 16 lire da Carducci un orrore di prezzo ma vedi che tacco alto che impuntura che punta sottile sono bellissime Giorgio adora i piedini ben calzati se tu sapessi come sono strani gli amanti io avevo dei fazzoletti semplici di tela bianca con una lettera i ricamata mi restavano del mio corredo che? niente affatto Giorgio vuole che io porti i fazzoletti di Batista con un merletto intorno come questo è bellissimo costa 5 lire poiché gli piace di fare lo scherzetto di stringere le mani nel manicotto ho dovuto comprare questo per 9 lire ti piace? è bellissimo non puoi credere come si spende è una rovina ninuccia mia faccio una quantità di pasticci di imbrogli di debiti una cosa da impazzire ora per tutta questa roba che mi serviva ho pigliato 60 lire in prestito da una donna che conosceva Teresa che dà il denaro a usura invece di 60 debbo restituirne 120 il doppio a 6 lire la settimana il brutto è che se non si paga ogni sabato quella strega viene si siede in anticamera e aspetta giusto questa prima settimana non ho avuto da pagare che ci ha voluto per mandarla via ho dovuto pregarla gridava povera isolina che importa per Giorgio farei tutto dicevi che questa donna presta denari ti serve forse chiese isolina alzandole gli occhi in volo no no dicevo per dire credevo ma è difficilissimo averne per nulla minaccia di parlare al marito una scellerata per carità anche quello spillo è nuovo sì l'ho comprato ieri ora si usano i ferri di cavallo sono in gran moda le signore lo hanno in brillanti io lo ho in argento non importa non vorrei avere i brillanti vorrei almeno avere un orologetto d'oro uno di quelli piccolini sai come un medaglioncino non puoi credere che è di terribile non aver l'orologio quando si ha l'amante si sbaglia sempre l'ora arrivi è troppo presto non vi è è una morte lenta arrivi tardi è passato un quarto d'ora per un altro quarto d'ora egli ti porta il broncio gli uomini si seccano di aspettare sei da lui ogni cinque minuti gli domandi che ora sarà quello si irrita di questa domanda a casa ritorni sempre in ritardo con una cera sbalordita che è un miracolo non ti tradisca dio mio che farei per avere un orologio adesso per esempio che ora sarà sono o non sono ancora le cinque io non so non ce l'ho io l'orologio vedi non so se andare o no basta cara è meglio che me ne vada vieni da me poi un giorno certo verrò fammelo sapere almeno ma già non ci credo resti sola ora qui sola e che fai? nulla buon tempo perduto un bacio cara purché io non incontri nessuno quando fu sola nell'ombra del crepuscolo che Kina si mise a piangere ella non aveva né scarpette dorate né i fazzoletti di Battista né il manicotto né lo spillo a ferro di cavallo né l'orologio piangeva poiché non aveva ognuna di queste cose che servono all'amore capitolo 5 ma nel silenzio delle notti vegliate accanto a Toto che dormiva e russava profondamente in quelle lunghe ore di lievi e brevi assupimenti di sussulti nervosi di intervalli insonni guardando la striscia di luce che entrava dallo scuretto succhiuso che Toto lasciava così per potersi svegliare prestissimo al mattino talvolta soffocando di caldo sotto la coperta di bambagia attisa come una tavola talvolta non potendo arrivare a scaldarsi fra quelle glaciali lenzuola di tela che Kina sentiva crescere in sé di nuovo il desiderio vivo forte di andare quel venerdì dalle 4 alle 6 in quell'appartamento di via Santi Apostoli nella notte nella solitudine fissando gli occhi ardenti che l'insonnia spalancava nelle tenebre ella si sentiva piena di coraggio questo grosso uomo che russava in tutti i toni e ogni tanto si rivoltava sotto le coperte di un botto solo come mosso da un saltaleone non le faceva più paura per quanto tendesse l'orecchio non le riusciva a udire il respiro di Susanna che dormiva in uno stambugio accanto alla cucina i suoi due nemici non le parevano più terribili andare sì doveva andare poiché aveva detto sì quella sera quando egli l'aveva baciata infine che ci voleva dal bufalo sino a Santi Apostoli ci vorranno forse 10 minuti a piedi no più ce ne vorranno 12 dal bufalo a Santi Apostoli si fa una via scorciatoia tutta a tratti brevi si sale per il Nazareno si discende per via della stamperia si passa accanto alla fontana di Trevi si infila il vicoletto di San Vincenzo e Anastasio poi un pezzetto dell'umiltà l'archetto e si è subito a Santi Apostoli un quarto d'ora forse ci si metterà andando piano per non dare nell'occhio a fare il giro lungo per il pozzetto per il corso per San Marcello ci sarebbe voluto mezz'ora tanta gente è sempre per il corso che vi urta che vi ferma che vi fa inciampare che vi fa ritardare meglio andare per le strade interne e con la lucidità di visione dei cervelli che la veglia notturna esalta ella si vedeva partire di casa alle quattro sorridendo un poco per la burletta che faceva a Toto e a Susanna la serva che si vantava di essere tanto furba camminando piano piano guardando le botteghe il dolcere in via della stamperia il cartolaio sulla piazza di Trevi le colombelle che svolazzano alte sulla fontana si vedeva camminare più presto dopo poiché era già lontana di casa sua si vedeva scantonare in via Santi Apostoli guardando distrattamente i numeri delle case si vedeva entrare in casa di lui che l'aspettava qui tutti i suoi nervi tremavano in una vibrazione ed ella nascondeva la faccia nel cuscino sì tutto le pareva facile tutto le pareva semplice tutto le pareva vicino possibile nella notte che eccita le forze dei temperamenti flemmatici progettava domani faccio una grande scena a Toto e gli cavo dei quattrini compro almeno dei guanti gli stivalini il manicotto oppure domani vado da Isolina mi faccio accompagnare dalla Coppi che mi fa credito e compro un cappellino poi quando sarà a pagare per forza Toto strillerà ma dovrà cavare i quattrini oppure domani vado da Isolina me le butto nelle braccia le racconto tutto e la prego di chiedere per me quattrini a quella donna che ne presta poi in qualche modo penserò a pagare oppure se per un giorno Isolina fosse tanto buona da prestarmi la roba sua è vero sono più grassa di lei ma le spalle hanno la stessa misura e basterà a slargare l'abito alla cintura ai suoi fianchi il piede lo abbiamo lo stesso mi pare forse è un po' più piccolo il mio ma le sue scarpette mi vanno le sono tante assestate domani domani ci vado e le dico tutto le pareva di avere una forza nuova che non aveva mai sentito in sé un coraggio grande un'audacia che fa superare allegramente qualunque ostacolo una volontà così ferma che nulla poteva vincerla o spezzarla rideva di orgoglio nella notte sollevando le spalle come se volesse provarsi ad alzare un peso immenso per gioco per provare le sue forze poi dopo aver rifatto venti volte ampliandolo lo stesso progetto vedendolo tutto aggiustato tutto pronto tutto bello e la arrivava sempre all'estremo del suo sogno a quell'arrivo in quella casa da lui che l'aspettava e tutto si inabissava in una confusione di fantasie sognanti le sensazioni dell'amitezza ombrosa della mollezza calda del silenzio profondo della carezza voluttuosa delle cose ricche e belle ma l'alba la buttava in un sonno plumbeo da cui in vano per mezz'ora tentavano di destarla agli strigli e i borbottamenti di Toto si levava spossata con la bocca amara e pastosa esaurita dall'insonnia ogni mattina Toto gliene inventava una sarà stata la bracciola di maiale che t'ha fatto male checca mia se ti senti male perché non prendi il citrato di magnesia effervescente è una bibita piacevole e ti spazza lo stomaco come una scopa checca mia più ti guardo e più mi pare che tu debba avere della costipazione ma perché non ti decidi addirittura per un po' di olio di mandorle fresco spremuto da garneri è una bellezza sì sì lo prenderò mormorava lei chinando il capo così dal mattino lentamente svaniva la sua volontà la sua forza il suo coraggio invano tentava di ritrovare l'audacia delle veglie notturne l'idea di chiedere denaro a Toto le era insopportabile non avrebbe saputo donde cominciare ed egli avrebbe finito con non darle un soldo cercava di rianimarsi di mettersi su per parlare ma le parole le morivano sulle labbra lo lasciava uscire senza dirgli nulla Susanna le pareva l'altro ostacolo insormontabile era sicura di non poterla ingannare quella serva diffidente sospettosa dallo sguardo scrutinatore di Beghina per Isolina le veniva una vergogna grande di quella confessione non per altro perché le pareva brutto narrare la sua miseria la sua inabilità la sua inesperienza come avrebbe avuto il coraggio di presentarsi dalla coppia per avere il cappellino di Belluto e se quella glielo rifiutava sarebbe stata una mortificazione da non potersi sopportare nella sua vita non aveva mai piantato debiti dalla modista o dalla sarta con l'istintivo orrore del debito che è in tutte le tranquille coscienze borghesi e quell'altra donna l'usuraia Isolina glielo aveva detto era una strega non si poteva combinare nulla con lei non vi era da fare nulla nulla mentre macchinalmente levava la polvere in salotto dal servizio di tazze dalle bomboniere e dal piattino di frutta artificiali mentre aiutava Susanna a pulire i broccoli per la minestra mentre rimetteva la pedana di mussola a una sottana tutta sfilacciata sull'orlo mentre versava l'acqua calda sul marmo della toilette e vi strisciava su un pezzo di potassa per cavarne le macchie e la demoliva in sé silenziosamente tutti i progetti della notte le parevano un sogno una pazzia financo l'itinerario così semplice di notte le sembrava di giorno tutta una confusione un imbroglio e l'avrebbe certo smarrita la via quando veniva la sera tutto era crollato tutto era caduto in polvere scomparso e la non aveva usato pronunziare una parola fare un atto nulla nulla che la riavvicinasse i suoi progetti ed era anche sicura quel giorno di perdersi per la strada sentiva alla fine della giornata acutamente il dolore della propria inerzia sentiva tutta l'amarezza di una disfatta ingloriosa in una battaglia dove ella non aveva avuto il coraggio né di attaccare né di difendersi dentro di sé si lamentava ingenuamente dei fatti che accadevano delle cose che la circondavano delle persone fra cui viveva di sé stessa che non sapeva far nulla che era impotente a tutto in questo stato di cose con l'esaltamento della fantasia nella notte con l'assoluta mancanza di volontà nel giorno venne il venerdì mattina ella non aveva deciso niente alle quattro doveva andare poiché gli aveva detto di sì quando egli l'aveva baciata come in che modo non sapeva quella mattina più che mai Toto le parve strillone collerico taccagno voleva lasciare due lire e cinquanta per la spesa con la scusa che non aveva altri spiccioli quando Susanna ricordò al padrone che essendo venerdì doveva lasciare altri venticinque soldi per la lavandaia che avrebbe portato i panni dal bucato ne venne una lite fra la serva e il padrone Toto era seccato era seccato capite di queste continue spese straordinarie ogni giorno una cosa nuova bisognava chiedere il permesso alla signora del terzo piano di sciorinare la biancheria sul terrazzo già vi era la fontana si poteva da ora innanzi lavare in casa Susanna rispondeva che non c'era avvezza a stare una giornata con le mani nell'acqua e che per otto lire il mese anche troppo ci rimetteva la salute otto lire col trattamento gridava continuamente Toto bel trattamento quando se ne fu andato dopo aver cavato a uno a uno i venticinque soldi Susanna soggiunse a conclusione oggi venerdì tredici sta Cristo morto per terra per i peccati nostri Checchina che non aveva aperto bocca trasalì anche la data a cui non aveva pensato una data fatale una combinazione strana di numero e di giornata una paura dell'ignoto le nasceva dentro questo appuntamento giusto di venerdì nel giorno tredici quando il proverbio dice che non si sposa e non si parte e la religione stabilisce il venerdì come giorno lugubre in memoria della morte del redentore andò in cucina gironzò un momento brutta giornata oggi disse Dio ne scampi dalla tentazione rispose la serva se dicessimo il piccolo rosario delle anime del purgatorio quello a tre decine di avemarie con requiem eternam invece del gloria patria diciamolo pure allora mentre Susanna versava in un piatto le lenticchie per la zuppa e vi soffiava dentro scotendole per far andare via la polvere e poi le scostava col dito per toglierne i sassolini le pagliucchelle mentre Checchina metteva un mucchietto di bicarbonato in un pezzetto di tela ne faceva un batufoletto anodato col filo per metterlo a bollire con le lenticchie perché cocessero più presto le due voci si elevarono monotone senza intonazioni speciali senza inflessioni nell'abitudine della preghiera nell'indifferenza della preghiera quotidiana alla fine Checchina dette in un sospiro di sollievo quasi che quel senso di paura superstiziosa si fosse dileguato Cristo doveva essere placato in quel giorno fatale poiché gli avevano detto il rosario Cristo doveva aiutarla in tutto quel venerdì in quello che essa desiderava da questo interno convincimento e la trasse un po' di coraggio per dire a Susanna pulisci le tu oggi lumi fammi il piacere le faceva schifo ora toccare quel cencio sporco e passare mezz'ora a rigirare lo spazzolino rotondo dentro il tubo Susanna consentì senza dire nulla allora Checchina in sedi scoraggiata così come se parlasse fra sé voglio andare da isolina oggi è venuta tre o quattro volte da me l'altra non rispose occupata a risciacquare certe stoviglie ci potrei andare quando Toto va a Santo Spirito per la visita della sera verso le quattro fossi in lei veda non ci andrei disse la serva rivoltandosi improvvisamente e perché? perché quella lì tutti lo sanno è una gran peccatrice avanti a Dio e avanti agli uomini ma no povera isolina sì povera isolina bella povertà che sta dalla mattina alla sera immersa nel peccato come se non si sapessero tutti gli orrori che commette solo quel babbeo del marito non sa niente ma ci dovrebbe essere un'anima cristiana che lo avvisasse che Kina guardò la serva con aria spaventata mi ha fatto tre o quattro visite ripete poi ostinandosi dovrei fargliene una oggi eh ci vada pure poiché le fa tanto piacere scommetto che se ne confessa padre Fileno dell'amicizia che ha con la signora isolina il padre gliela proibisce sotto pena di non darle la soluzione per oggi solo disse l'altra transigendo nel dopo pranzo vi fu un avvenimento venne un cliente un provinciale febbricitante lo mandava il marchese di Aragona Toto si dette da fare chiuse la porta dello studio lo interrogò lungamente gli scrisse una lunga ricetta e lo trattenne per un'ora che Kina passeggiava su e giù morendo di impazienza il provinciale lasciò cinque lire un prezzo isperato per il dottor primicerio a cui davano ordinariamente due lire Toto venne fuori entusiasmato con quella carta sudicia di cinque lire e una che camia questo marchese è una gran brava persona vedrai vedrai ne verranno degli altri di clienti e di carte da cinque lo dicevo io questi nobili sono incapaci di tenersi una gentilezza sono le tre è meglio che mi vesta per andare all'ospedale vedi ci sono delle soddisfazioni a fare il medico mentre egli si spogliava per rivestirsi e la lo seguiva a passo passo come per aiutarlo sei contenta checca? contenta cercherò di vederlo questo marchese per ringraziarlo chissà dove abita infine è un galantuomo non ti pare? mi pare se lo vedo gli dico di ritornare qui a trovarci qualche sera dopo cena diglielo pure il dottore se ne andò fischiando una rietta tutto felice della professione che aveva presa compatendo tutti gli altri infelici avvocati ingegneri professori allora Checchina cavò fuori il vestito foglia morta il cappellino il mantello i guanti prese un fazzoletto pulito di tela e adagiò tutto sul letto dal mattino Susanna l'aveva pettinata e la ripassò il pettine nei capelli per lisciarli un poco non volle richiamarla per farsi pettinare di nuovo non ne ebbe il coraggio poi cominciò a vestirsi lentamente guardandosi molto nello specchio scoprendo che aveva tre macchie di lentigini sotto l'occhio sinistro ma a una certa distanza non si vedevano e la detestava tutta quella brutta roba che si metteva addosso il busto dell'abito ecco slargava troppo alla cintura e serrava sul petto da soffocarla non se ne era mai accorta oggi se ne accorgeva un guanto era scucito perdè del tempo a ricucirlo e non aveva filo nero lo ricucì col filo grigio non ci sembrava troppo poteva andare provò due o tre volte il cappello per dargli un'inclinazione diversa ma finì col metterlo come lo metteva sempre si guardò un'ultima volta nello specchio e le parve di fare una figura molto meschina molto miserabile ma oramai che poteva farci più lentamente si avviò stretta nel mantello entrò in cucina esce? domandò la serva vado da isolina piove disse l'altra bruscamente come piove? non se ne era accorta? piove da mezz'ora? Chechina andò alla finestra della stanza da pranzo il cortile era tutto bagnato ma potevano essere anche le fontane andò alla finestra del salotto l'unica che dava sulla via pioveva proprio fino fino senza scroscio ma continuamente e la aprì i cristalli mise una mano fuori come se non credesse ai suoi occhi il guanto si picchiettò di goccioline di acqua sedete un momento quasi le mancassero le forze poi si alzò piglierò l'ombrello disse alla serva e ambe due lo cercarono dappertutto questo ombrello l'unico di casa uno di quelli da sei lire e cinquanta stava dietro l'armadio continuava a ripetere chechina come un pappagallo stava stava ma non c'è e frugavano ancora guardando in ogni posto anche dove non poteva stare sotto il letto dentro la credenza nel cassetto dell'armadio niente non vi era guardiamo bene diceva ella ancora ostinata è inutile guardare non vi è lo avrà preso il signore vedendo che voleva piovere se ne rammenta lei se il signore l'avesse messo sotto il braccio l'ombrello non me ne rammento non ho guardato beh lo avrà preso lui è inutile perdere la testa più e se ne andò in cucina pure con la cocciutaggine nervosa di chi vuol ritrovare a ogni costo un oggetto perduto chechina cercò ancora rivolgendo certe occhiate smarrite a tutti gli angoli dove l'ombrello poteva essere niente niente ritornò alla finestra pioveva più forte ora la fontanella che sta all'angolo del pozzetto rigurgitava di acqua passavano certe cappe di ombrelli lucide di pioggia sotto cui si muovevano certe gambe dai calzoni arrovesciati e dalle scarpe infangate pioveva non si poteva uscire senza l'ombrello per prendere una carrozza ci sarebbero voluti sedici soldi e forse una lira perché di questi tempi cattivi i cocchieri romani sono tanto ladri pioveva sempre e i vetri si appannavano e là non vedeva più chi passava per la via Maddalena ce lo avrà un ombrello da prestarmi chiese alla serva rientrando in cucina Maddalena? ce lo avrà di certo ma io non glielo chiedo sono due giorni che quella brutta strega non mi saluta quando passo Checchina voltò le spalle senza dire altro aprì la porta e discese le scale come un automa in verità le salivano le lacrime agli occhi per l'umiliazione ma cercava di non piangere Maddalena mia io ho da uscire per vedere un'amica la signora isolina per un affare piove e Toto si è portato l'ombrello per favore me lo prestereste l'ombrello vostro con tutto il cuore e che le pare signora mia se trattasse di quella beghina falsa di Susanna direi di no che quella non darebbe un sorso di acqua a un moribondo ma per voi cara signora mia la disgrazia vedete è che non ce l'ho che mio marito se l'è portato via da stamane e io avevo da andare ai coronari e nemmeno ci sono potuta andare se aspettate che torni all'avemaria grazie Maddalena non importa poco ci può mancare una mezzoretta non importa non importa che vi ho da fare signora mia la buona intenzione ce l'ho chechina dete un'occhiata sulla via pioveva sempre ma meno di prima se ne risalì sopra pian piano decisa ad aspettare che cessasse di piovere infine non doveva essere molto tardi egli aveva detto dalle 4 alle 6 ma non aveva l'orologio dietro i vetri ritta compresa da quella umidità crepuscolare guardava di rimpetto nel vano nero di una finestra se le gocce di pioggia si diradassero non aveva idea più dell'ora niente fino a che a poco a poco cessò di piovere e ella si avviò suonarono alla porta è la lavandaia disse Susanna ora ho da uscire rispose Checchina e che ci vuole a leggere la lista quella non se ne va e lo sapete che io non so leggere ma la cosa tirò in lungo la lavandaia cominciò a lamentarsi del cattivo tempo che non le permetteva di far asciugare i panni a scuotersi l'abito che era tutto bagnato Checchina ritta presso la tavola da pranzo sfogliava con le dita tremanti il quaderno delle liste non trovando la giornata mentre la lavandaia faceva dei gruppi separati un gruppo le lenzuola un altro le camice un altro i tovaglioli un fascio i fazzoletti e le calze cominciarono a verificare ma la lista non combinava Checchina aveva sbagliato il foglio era una vecchia lista bisogno ricominciare dal principio in ultimo risultò che mancava un lenzuolo e che un fazzoletto era stato scambiato qui la lite fu tra Susanna e la lavandaia poiché questa diceva che il lenzuolo non lo aveva avuto mai e Susanna sosteneva di averglielo consegnato con le proprie mani ci è scritto? domandava gridando alla padrona la serva ci è scritto? rispondeva Checchina macchinalmente ebbene ci deve essere la lavandaia scoteva il capo poco convinta essa non perdeva mai niente non aveva che quattro famiglie tutti erano sempre soddisfatti della sua esattezza aveva consegnato le tre altre partite non vi era nulla di soverchio guardate bene nell'armadio il lenzuolo ci sarà io non l'ho avuto continuava finalmente guardando bene il lenzuolo fu trovato arrotolato nella coperta bigia da stirare come è che lo ha scritto? chiese la serva mortificata alla padrona non so poi venne la questione del fazzoletto scambiato Checchina non aveva mai avuti i fazzoletti con la lettera R diceva Susanna ci volle del bello e del buono per convincere la lavandaia a riprendersi il fazzoletto per cercare se fosse di qualcun altro a cui avesse dato quello della signora essa non perdeva mai nulla si era visto con lenzuolo che poi dopo tante liti era in casa anche questo fazzoletto scambiato doveva essere un errore infine lo portava via avrebbe visto non era appunto sicura avrebbe riportato indietro quello che non era mica cattivo tutto di tela e grande al momento dei soldi fu il difficile la lista era di 32 e Susanna non ne aveva che 25 la lavandaia li voleva tutti naturalmente aveva da comprare il sapone lei ed era una pietà dover lavare d'inverno nell'acqua gelata Checchina stava a sentire senza intervenire immobile l'occhio distratto calcolando mentalmente che ora potesse essere tanto che quando finalmente la lavandaia fu andata via borbottando ancora Susanna si lagnò con la padrona che la lasciava sempre sola nelle questioni a combattere per gli interessi di casa che finalmente a lei Susanna non gliene avrebbe dovuto importar niente che tanto nessuno gliene teneva conto neppure il signor padrone quello lameno di tutti poi Checchina senza darle retta andò a vedere se piovesse non pioveva ma era già scuro accendevano i lampioni esitò un istante poi si decise non doveva essere tanto tardi d'inverno le giornate sono così brevi poteva andare ancora va sola? chiese Susanna sola a quest'ora? non è tardi non sarà tardi ma è scuro che fa? è tanto vicina a propaganda scusi eh ma non conviene proprio una donna onesta camminare sola a quest'ora girano tanti malintenzionati e poi è proprio l'ora per essere presa per una di quelle quando una va per la sua via non le accade niente lo so ma se il dottore sa che lei è uscita sola a quest'ora va sicuramente in collera e se la piglierà con me che non dovevo lasciarla andare via così avevo promesso a Isolina beh facciamo così ora mi vesto in un minuto e ce l'accompagno io dalla signora Isolina in due non ci diranno niente e poi so rispondere io agli sfacciati e in cucina chi ci baderà? è tutto pronto copro il fuoco con la cenere e sono da lei aspetterò in anticamera che lei abbia fatto la sua visita mi dirò un altro rosario per non parlare con quella sciagurata di Teresa che non è altro che la madonna le tenga la mano sul capo Checchina perduta si sedette nella stanza da pranzo senza saper che cosa fare udiva Susanna che si muoveva nello stambugio urtando alle pareti per far presto indossando il vestito di lanetta non era più possibile impedire a Susanna di accompagnarla ora doveva andare da Isolina sino a Propaganda e restare lì a far la visita era stata presa non era possibile liberarsi di Susanna uscirono tirandosi dietro la porta Checchina camminava fiacamente come se il terreno fangoso la trattenesse davanti alla chiesa di Sant'Andrea delle Fratte Susanna si segnò Isolina non vi era Checchina respirò meglio così mormorò la serva andiamocene se ne tornarono sempre in silenzio al portone Maddalena affermò Checchina se lo voleva l'ombrello Nino era tornato dalla fabbrica non serve più grazie rispose Checchina con molta dolcezza tanto su da lei è tornato anche il signore ah fece l'altra semplicemente ne salì più in fretta Toto era rientrato aprendo l'uscio con la sua chiave e si cambiava le scarpe sei uscita con questo tempo Checca non pioveva quando sono uscita dove sei stata? da Isolina e che fa? niente non vi era ci potrai tornare? già io sono stato all'ospedale poco da fare una lussazione una gamba rotta null'altro ne ho approfittato per andare sino al caffè di Roma sai al corso per vedere se ci fosse il marchese d'Aragona con la pioggia sei andato? avevo l'ombrello me ne ero ricordato che il marchese d'Aragona mi aveva detto che pranzava qualche volta a quel caffè ho preso un caffè accidenti costa 5 soldi e uno di mancia al cameriere che ha anche fatto il muso storto non l'ho trovato il marchese seguì un silenzio ella si svestiva lentamente riponendo man mano la sua roba quando fu ad abbottonarsi la giacchetta di casa domandò che ore sono Toto? le sei e la voltò per un istante la faccia verso la parete capitolo 6 Susanna cavava la roba che aveva comprato per il pranzo dal grande fazzoletto di cotone rosso e andava dicendo questi sono i cannelloni fatti a mano due libre come mi avete detto queste sono le sardelle da cucinarsi in tegame con olio mollica di pane e origano si vendevano a 16 soldi il chilo ho dovuto gridare per averle a 14 questo è un fascetto di pomidoro per la salsa dei cannelloni e questo che è? chiese Checchina che guardava e ascoltava ancora spettinata tanto pallida che pareva gialla allora Susanna tirò fuori qualche cosa di bianco una carta una lettera che si era bagnata e immacchiata di sugo rosso stando tra il fascio di pomidoro a fiaschetti e un mazzetto di agli è una lettera disse la serva me l'ha data il postino per lei sulla busta di carta inglese diceva signora fanny primicerio giusto una macchia era sul nome e l'aveva insudiciato dentro diceva quanto siate stata crudele oggi che vi avevo fatto per farmi soffrire tanto vi ho aspettato dalle tre alle sette spasimando verrete domani siate buona con me infelice mi avevate promesso di venire venite vi aspetterò di nuovo solo bella creatura destinata all'amore invocandovi col desiderio oh non mancate ve ne scongiuro in ginocchio Ugo di Aragona d'un tratto dopo la lettura a chechina parve di vederselo inginocchiato innanzi il bel marchese di Aragona in quella cucina umida e buia e cominciò a tremare tutta e tutto le girò intorno vorticosamente la casseruola sul focolare la graticola sospesa al muro i ferri da stirare poggiati sull'orlo della cappa del camino e il rumore della fontanella che sgorgava nello sciacquatoio le parve una tempesta ora casco a terra pensò tra sé e si appoggiò alla tavola ha freddo? disse la serva sentendola battere i denti sì ho freddo mormorò la padrona ficandosi la lettera in tasca istintivamente fuori non ne fa tanto è scirocco fosse per caso pena di stomaco vuole che le friga due sardelle così alla lesta no no e se ne andò lentamente in camera sua tenendo sempre la mano in tasca sulla lettera ma per lungo tempo non osò rileggerla temendo che sopravenisse Susanna e la sorprendesse la serva spazzava nella sala da pranzo e che chi ne aveva paura financo che ella si accorgesse dello scricchiorio della carta poi abbe un'idea prese il libro delle orazioni vi mise la lettera voltò due o tre foglietti poi aprì la lettera e la lesse come se leggesse una pagina di preghiera oh quella bella lettera con quella corona di marchese semplice semplice scritta con quel caratterino così sottile così signorile con l'inchiostro azzurro asciugato dall'arena di oro le parole si allungavano languidamente voluttuosamente tenendosi per mano legate da certe lineette esili esili e sotto la grande firma chiara e larga come suonante e squillante due o tre volte e la ripete sottovoce Ugo di Aragona poi da quello che egli diceva nella lettera le pareva partisse una musica dolorosa che la faceva struggere di compassione come per una grande sventura che gli fosse accaduta le pareva di udire da lui quelle malinconiche parole pronunziate con una mestizia nella voce le salivano le lacrime agli occhi poi l'impressione si calmò e le rimase in mente solo la cifra egli aveva aspettato dalle tre alle sette mentre la pettinava Susanna contro il suo solito tacque e Checchina ebbe paura di quel broncio che poteva essere mi ha scritto isolina insinuò senza far mostra di nulla Susanna non rispose per dirmi che ieri non vi era a causa di una sua zia che era ammalata e respirò dopo la complicata bugia sarà stata una zia maschio borbottò la pinzocchera ma non smise il broncio in vano Checchina le gironzò intorno presa da un'inquietudine che sino allora non aveva mai provata Susanna non aveva voglia di discorrere poi l'inquietudine di Checchina crebbe se la peghina parlava della lettera a Toto come avrebbe fatto ella e stringeva la lettera in tasca fra le dita convulsamente come se avesse voluto stritolarla ma di stracciarla non aveva il coraggio la lesse una terza volta aprendola in un cassetto del cassettone sopra un mucchio di tovaglioli voleva impararla a mente e poi lacerarla ma ci si confondeva le frasi si arruffavano nel cervello pensò un momento di nasconderla in qualche posto ma dove? del cassettone e dell'armadio Toto le chiedeva ogni momento le chiavi per prendere qualche cosa la tavola da pranzo aveva i cassetti col pomo di legno senza serratura e il tavolino da gioco nel salotto non aveva cassetti era inutile era meglio tenerla in tasca stava più al sicuro ma a pranzo per la inquietudine crescente visto che Susanna conservava quel suo viso incollerito e quel silenzio dispettoso che China non mangiò che pochissimo ogni tanto nervosa metteva la mano in tasca a tastare se vi era la carta e non cavò mai il fazzoletto per timore di trarla fuori inavvertitamente ma la serva non parlò e Toto non litigò per miracolo era stanco come un facchino che avesse alzato delle balle sul molo e dopo pranzo si addormentò subito sul letto bello e vestito avvolto nel vecchio scialle russando come un mantice dovettero chiamarlo quattro volte alle tre e mezzo e borbottava raschiando sputando che aveva la bocca avvelenata e il mal di capo ci vai da isolina oggi di nuovo si disse lei decisamente ma partito il marito mentre si vestiva chechina si impensieriva ancora di Susanna che avesse sospettato qualcosa non ci mancava che questa e la si fermava abbottonandosi il vestito presa da una fiacchezza da una sfiducia poi la musica triste che era nelle parole scritte dal marchese le toccava certe fibre del cuore per cui trassaliva e si sbrigava a vestirsi arrivederci Susanna arrivederla disse l'altra duramente e non aggiunse Dio l'accompagni come faceva sempre chechina era di nuovo spaventata nelle scale ma la luce la via libera l'incoraggiarono e se ne salì per il nazareno ad agio ad agio era presto non doveva arrivare tanto presto ma quando fu innanzi al cartolaio di piazza Trevi si agghiacciò dallo spavento aveva lasciata la lettera del marchese di Aragona nella tasca del vestito di casa e Susanna sapeva leggere anche il manoscritto si frugò in tasca macchinalmente due o tre volte pregando fra sé il signore che gliela facesse ritrovare come se ancora un miracolo potesse accadere e cercando sempre ritornava verso casa dicendo tra sé Madonna mia fate che non l'abbia letta Madonna mia aiutatemi voi le parve un secolo per tornare e pregava in sé apri Susanna sono io ah è lei disse quella seccamente giusto per una fatalità aveva sul braccio il vestito da casa Checchina si fermò interdetta ero tornata disse poi subito perché ho dimenticato la lettera di Isolina vi era una cosa importante da farmi spiegare è in tasca la lettera Susanna le tese la gonnella la spazzolavo disse Checchina riprese la lettera senza aprirla e se ne andò pensando l'avrà letta non l'avrà letta nella via mentre voltava di nuovo per il Nazareno guardò la finestra di casa Susanna vi era affacciata e la guardava oddio pensò Checchina ora ha visto che non ho voltato per Santa Andrea ma tirò innanzi incapace di far altro paralizzata nella sua volontà dall'idea che Susanna avesse letto la lettera a San Vincenzo un signore la fermò oh Sorachecca ben trovata dove va? era Alessandro Pontacchini un amico di casa che teneva un botteghino di sali e tabacchi vado qui Sor Sandro disse lei tutta scossa da quell'arresto improvviso qui per un affare? ci ha degli affari lei Sorachecca lo dirò al Sortoto sa? che stia attento disse l'altro con la sua grossa malizia romanesca ella sorrise debolmente dalla tintora spiego poi dalla tintora in via San Marcello per un vestito sempre esatta sempre brava la Sorachecca eh? di queste donne qui ce ne sono poche e per questo ci rinunzio io al matrimonio quando ci ho pensato era troppo tardi Sorachecca mia e il Sortoto era arrivato prima di me e rise ella restava tutta confusa senza rispondere una di queste sere quando posso lasciar solo Cencio il mio nipote a magazzino vengo da loro a far quattrociarle io metto le caldarroste e lei il vinello bianco Sorachecca ci sta? ci sto lo dica a Toto a quel fortunato birbone e me lo saluti tanto ella riprese la strada sempre più agitata adesso anche il Sor Sandro che sarebbe venuto che avrebbe detto che avrebbe raccontato che avrebbe scherzato di nuovo e Susanna a casa che aveva forse letta la lettera e che dalla finestra l'aveva vista voltare per il Nazareno invece che per Santa Andrea e chissà per le vie quante persone che conosceva l'avevano incontrata e notata ed ella non se n'era accorta e se quel collega di Toto di Santo Spirito l'aveva vista e glielo andava a dire subito all'ospedale e Toto messo in sospetto usciva e andava da Isolina e non vi trovava lei che china e non trovandola lì andava a casa e Susanna gli narrava tutto dalla lettera a quel ritorno a quella nuova uscita alla combinazione di quelle strade eppure camminava camminava ancora senza vedere più nessuno dove vai? disse una nota voce era Isolina stava fermata presso la birreria del teatro Quirino appoggiata alla balaustra di legno vestita male con un cappello vecchio e coi guanti ricuciti dove vai cara Checchina? venivo da te balbettò Checchina non sapendo più che cosa dire perduta per quest'altro incontro da me? da questa parte? come ti viene in mente? e che hai bella mia? ti senti male forse? presala per mano la trascinò in quel grande palazzo di sciarra nel portone dove ancora si costruiva dove andavano e venivano i muratori fra i mucchi di calcinacci e le travi che sbarravano il passo non ho nulla non ho nulla rispose Checchina cercando di riaversi ma da qualche giorno patisco disturbi non so perché sarei gravida forse checa mia ma che non so che cosa sia mi piglia ogni tanto oh nina mia cara io dovrei starmi nel letto tanto mi sento male che vitaccia da cani è mai questa quanti dispiaceri abbiamo da inghiottire se sapessi se sapessi quell'infame di Giorgio l'amore mio che mi sta facendo che ti sta facendo cose incredibili checa mia da farmi piangere tutte le lacrime che ho in corpo niente meno che io so sicuramente che egli fa la corte qui a una di queste chellerine queste giovani della birreria una bruna ed è qui ogni sera a bever birra a bever poncini e a dare un franco di mancia capisci per ringraziarsela una porcheria una sudiceria da non credersi ma sarà vero come? se chi me lo ha detto non può mentire è tanto un bravo e simpatico giovane uno studente di letteratura che fa anche dei versi e li pubblica sopra un giornaletto della domenica e abita accanto a noi è così buono viene qui la sera per fare degli studi che metterà poi nei suoi libri e mi ha detto l'infamia di Giorgio ci hai creduto? vorrei non crederci gioia mia ma quel Giorgio è stato sempre un grande ingrato già si dice volubile come un ufficiale ora oggi per dispetto non ci vado e sono passata qui innanzi per vedere se posso distinguerla distinguerla questa chellerina già sarà tutta dipinta me lo immagino non ho potuto veder niente è troppo lontano e i cristalli fanno un riflesso ma qui fa freddo qui dentro andiamo ti accompagno ti racconterò il resto per la strada no disse Chechina non vuoi che ti accompagni? no ah fece soltanto l'altra le fiamme della vergogna abbruciavano le guance di Chechina la voce restava strozzata in gola avrai fretta sicché? riprese lentamente Isolina sì è la prima volta che vai? sì ed è un bel giovane? sì restavano ritte una presso l'altra a quell'angolo di via dell'archetto scusandosi ogni tanto per far passare i carri di pietre e di mattoni che la traversavano continuamente brava Chechina e non dirmi nulla proprio si vede che non mi vuoi bene punto che non hai confidenza mentre io ti ho sempre raccontato tutto si vede che sei una grande ipocritona oh Isolina già è una questione di temperamento io non te ne faccio un torto quando si ama si ha paura pure avrei potuto aiutarti darti qualche consiglio dove abita lui? qui qui presso dove? a via santi apostoli brutta strada pericolosa troppo vicina al corso osservò Isolina con la sua aria di esperienza digli che cambi casa che affitti una stanza ai quartieri alti è meglio egli non ci va ai quartieri alti in una stanza è un signore è un marchese un marchese? che marchese? il marchese di Aragona il nome fu sospirato più che detto Aragona? l'ho inteso nominare un signorone ti avrà fatto dei gran regali un braccialetto? no mi ha mandato dei fiori ti avrà scritto delle bellissime lettere? una sola la intasca naturalmente fammela vedere e Checchina gliela fece vedere come sempre subiva la volontà della persona che le era accanto è bellissima felice te Checchina mia che sei amata oh la monacella che non diceva nulla ti ho detto tutto va cara va Dio ti benedica sii prudente ti raccomando tu sei nuova a queste cose o nulla può tradirti tu non sai a quale pericolo ti metti va cauta so io che cosa sia che ci ho preso le palpitazioni di cuore va non ti trattengo beata a te se vedo toto gli dico che siamo state due ore insieme due ore basteranno o ne? o ti serve restare di più? oh isolina non ti scandalizzare non vi è nulla di male dammi un bacio cara siamo più che amiche ora siamo sorelle e se ne andò per la via delle vergini col suo passo saltellante di uccellino frivolo Checchina camminava piano ancora abbattuta dallo scorno di aver dovuto dire tutto parendole oramai tutto fosse finito poiché un'altra lo sapeva poiché ella aveva avuto la debolezza di pronunziare quel nome quando voltò in via Santi Apostoli dette uno sguardo alla chiesa e passando urtò il cancello era chiuso davanti al grande palazzo dei scalchi una carrozza stemmata stava ferma era vuota aspettava qualcuno poi dall'altro marciapiede Checchina vide l'arco e dopo l'arco due botteghe e poi la porticina con uno scalino ma sulla soglia sbarrando la metà dell'entrata appoggiato al muro vi era il portinaio un uomo alto e grosso dalla faccia volgare e irsuta di peli pigi con un fazzoletto di lana rossa al collo e un berretto con la visiera messo un po' di traverso fumava la pipa guardando in aria di botto sul marciapiede di rimpetto Checchina si fermò senza poter attraversare la via per entrare nella porticina bisognava domandare al portinaio di poter entrare chiedergli se il marchese d'Aragona era su e poi passare e la riunì tutte le sue forze per fare questo tentativo ma a mezza via si fermò di nuovo il portinaio aveva un viso brutto e brutale una di quelle facce irriverenti che disanimano i timidi e l'arrivò sino dal tapezzere e reanda cercando di farsi coraggio e attraversò la strada passò in ansia alla porticina non levando gli occhi sul portinaio eppure vide che costui la squadrava sfacciatamente essa arrivò di nuovo sino alla chiesa e si voltò a guardare le finestre disperatamente come se chiedesse aiuto le imposte verdi erano chiuse il marchese lo aveva detto che lui amava l'ombra allora ella rifece la strada dal palazzo De Scalchi sino al caffè all'angolo di via nazionale ripassando lentamente innanzi alla porticina il portinaio leggeva un biglietto dell'otto con una cera collerica ma non si muoveva e la non entrò per la terza volta ritornando verso il palazzo De Scalchi e la ripassò e gli ricaricava lentamente la pipa premendo il tabacco col pollice né si levava dalla soglia allora chechina abbassò il capo e se ne andò a casa rinunziando